Mi tirano dei nascimenti a me? Quando fate le scuole dovete spiegare che la gente deve fermarsi in frenatura, non in frenatura Hai capito? Giovane Dipende Secondo a chi gliela dici ti vola tutti i segnali Ah, quindi poi è la sua ferra Le ferra scorrono già all'ultimo istante, un corpo solo, secco e breve Se tu gli dici di portare dentro in frenatura, quello ti sfrena Ma in frenatura al di sotto della pressione Probabilmente non sono... Vai Ah, buongiorno Hai neutrao, mi pare il sorrento Vai Anche Anche Triun Grazie a tutti. Quanto è anche ventimiglia a Torino? Una volta sì, dall'altra linea. Perché l'ho chiesto di farla a Torino ventimiglia, ma mi hanno detto di no. Non lo so, infatti, qualunque altra linea sì. Forse perché la linea è francesa. Ma lo faccio, non lo faccio. No, no, facciamo, però lo sai. Ma con lei, non lo faccio, lo faccio. E anche per la tua panoramica, come in parte. Ma stai cercando queste riprese dell'effetto? Ma da pochi vanno cercando. Anche una galetta elicoidale? No, 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 no. Pa, 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 pa. Grazie. 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 Ma te me lo puoi suonare, no? Io non vediamo più il compito. Diventa binario unico, Dario? Sì. Ora fino all'Oano. E' finita la paglia. Facciamo ancora l'Oano al Venga e poi fino a Sperlandetti. Si a 30 per lavoro in corso. Poi... O comincia il taglio. Vai! Spergato? 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 Spergato. Spergato? 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 Spergato fino ad andare verso Iconcagnolli. Lampa! 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 Sembra che c'era chiama! Lampa! Ok. Azzurro. E' la gialla fisse! No! E' la gialla verga! Vi ritralo-gergo! Vi ritralo-gergo, si si! Io neanche, io l'ho giuro eh! e' le altre terms, le alle hermere! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.